Attribolato a lungo, ma Michele Catanzaro alla fine, nel pomeriggio, ha avuto la buona notizia dalla sede regionale del Partito Democratico. C'è anche lui tra gli eletti all'Assemblea regionale siciliana. Il segretario del Partito Democratico di Sciacca dunque riesce ad accedere a Sala d'Ercole ed è certamente un grande successo personale che riscatta la sconfitta di cinque anni fa, quando fu beffato da Salvatore Cascio all'epoca nella lista di cantiere e popolare. PD che dunque conquista uno dei sei seggi della provincia di Agrigento, Michele Catanzaro è giunto davanti all'uscente Giovanni Panepinto. Due i seggi conquistati dal Movimento 5 Stelle, Matteo Mangiacavallo e Giovanni Di Caro. Uno il seggio dell'Udc, appannaggio di Margherita la Roccaruvolo. Uno il seggio per gli autonomisti, confermato Roberto Di Mauro. E infine uno, quello di Forza Italia, Riccardo Gallo. Non vengono riconfermati Salvatore Cascio, Michele Cimino, Vincenzo Fontana e Gaetano Cani. Sciacca non aveva due deputati regionali da vent'anni, ossia dai tempi di Siso Montalbano e Pasquale Mannino. Un fatto, questo che al di là di considerazioni più o meno provinciali, è sicuramente importante sul piano del tentativo di riscattare questo territorio, anche se è innegabile, che è da scrivere alla comunità di Sciacca anche il nome di Margherita la Roccaruvolo, quest'ultima sarà parlamentare di maggioranza, così come lo sarà Roberto Di Mauro, il quale, essendo nel listino di Nello Musumeci, dovrebbe lasciare il posto al primo dei non eletti della lista Carmelo Pullara. Entra all'arsa anche Giussi Savarino, ma non certo per il risultato piuttosto deludente della lista diventerà bellissima nella quale era candidata, quanto per la sua presenza all'interno del listino bloccato di Nello Musumeci.